Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui in questo incontro. Allora, il senso di questo incontro è il primo di un ciclo che andrà avanti anche il prossimo anno, che sono incontri più ristretti, più approfonditi, più specifici rispetto al Festival dell'Economia. Sono incontri che non sono in competizione con il Festival dell'Economia, ma sono importanti per tenere viva l'attenzione a questi temi tra un festival e l'altro. Infatti una delle ipotesi del titolo del programma era tra un festival e l'altro, poi l'abbiamo modificato. Questa sera abbiamo ospite il dottor Enrico Sadun, che ha un curriculum sicuramente impressionante, nasce come le sue prime esperienze sono a fianco di Altiero Spinelli e la Commissione Europea, quindi tempi molto importanti di costruzione dell'Europa, ruoli di primissima responsabilità all'interno del Ministero del Tesoro e negli anni della crisi del 2008-2009 era direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale a Washington, quindi ha visto dall'interno quello che stava accadendo in quegli anni. Ora è signor advisor internazionale, lavora con società di primissimo piano italiane e straniere a Washington e quindi anche il fatto di avere base a Washington consente di avere un punto di vista, una prospettiva diversa sull'Italia, paese nel quale noi viviamo. Prima di iniziare volevo ringraziare coloro che hanno reso possibile questo ciclo di incontri, che sono Trentino Sviluppo e la Cassa di Trento. Si è creato un gruppo di lavoro che ha lavorato con un'armonia sicuramente molto positiva e chiedo al Presidente della Cassa di Trento, Giorgio Fracalossi, di dargli il benvenuto. Buonasera a tutti e a tutti, come diceva il Professor Andrea Hauser, è con particolare piacere che abbiamo colto l'invito di Trentino Sviluppo, perché come ricordava lui questi eventi non saranno una sorta di competizione col Festival Economia, anzi proprio la ristrettezza e devo dire lo standing dell'uditorio secondo me permettono ragionamenti di un certo livello. Fa particolarmente piacere che ci sia anche il Dottor Saduna, al quale invidio solo una cosa, che a lei piace il condizionamento e a me no, perché lui ha detto che qua si patisce il caldo, quindi mi dispiace per questo e vedremo di risolvere per la prossima volta. Dicevo che sono incontri particolarmente importanti e già il titolo di oggi, Convivere con l'incertezza, devo dire che è un po' inquietante a dire la verità, nel senso che lascia aperto spazi veramente importanti per le riflessioni che nasceranno dal dialogo tra il Dottor Saduna e il Professor Andrea Hauser, ma poi spero che alla fine possiamo togliere quell'incertezza per avere qualche certezza, anche se mi rendo conto che quello che stiamo attraversando negli ultimi anni, penso soprattutto al tema della crisi finanziaria, al tema crisi economica, il Covid, la guerra, l'inflazione, i tassi, sono tutti argomenti che creano indubbiamente incertezza e sarà bello capire se dobbiamo proprio convivere come questa incertezza diventasse una certezza del nostro vivere quotidiano, perché di quelle certezze, ne paravo prima con il Dottor Briosi, quelle certezze che avevamo forse oggi non le abbiamo più. Quindi devo dire che la Cassa di Trento ha sposato proprio con convinzione questo progetto, anche perché poi noi nel nostro DNA abbiamo un fondamento importante, perché mi piace sempre ricordarlo, l'articolo 2 dello Statuto di una BCC recita così, che noi contribuiamo alla crescita morale, sociale ed economica dei nostri territori e credo che questa si inserisca proprio nella crescita culturale attraverso questo inizio di dialogo che poi, come diceva il professor Andrao, si ripeteranno con altri due incontri. Quindi veramente auguro a tutti un buon ascolto e grazie ancora per questa serata. Grazie. Grazie Presidente. Allora l'incontro si svolgerà con una sorta di dialogo tra di noi, dove io porrò dei temi e il Dottor Sadon li tratterà e dopo sarebbe bello avere un po' di dibattito di confronto anche con voi. Allora il punto dal quale partire, in modo a partire larghi e dopo cercare di convergere sull'Italia e sul Trentino, perché è vero che siamo autonomi, però siamo un guscio di noce in un mare grande, quindi le onde del mare chiaramente vanno anche a impattare sul nostro guscio di noce. Si parla molto di nuovo ordine mondiale, di ruolo della Cina, di un'America che guarda più al proprio interno che al proprio esterno, sto banalizzando. Cosa sta accadendo da questo punto di vista? Allora, prima di affrontare direttamente la tematica, due secondi, intanto per ringraziarvi dell'invito, grazie al Presidente e grazie ai partecipanti. Washington è fisicamente lontana, nel senso sono 24 ore di viaggio, che affronto molto volentieri perché, inspiegabilmente forse, da qualche anno, con il professore Andrea Oss ed altri, ho sviluppato una particolare attrazione per Trento. Non ho capito perché, forse sono cose irrazionali e spontanee. E quindi nonostante tutto, ogni occasione di venire a trovare la città e le persone, per me è un motivo di grande soddisfazione. Faccio veramente molto volentieri. Senza contare il fatto che c'è qualche cosa che forse vi sfugge, ma che accomuna Trento a Washington. Sono tutti e due villaggi. Uno si chiama villaggio globale, ma è un villaggio, e l'altro invece è un villaggio forse un po' meno globale, ma molto villaggio. Detto questo, un'ultima premessa, perché non vorrei che il nostro colloquio partisse su una base sbagliata. Alcune, se non molte, delle valutazioni, osservazioni che sentirete potrebbero lasciarvi l'impressione molto negativa. E in effetti, in oltre 40 anni di attività professionale, mi hanno cucito addosso questa nomea di eterno pessimista. Accusa che io naturalmente reagisco, rigetto. Io mi autodefinisco un ottimista con esperienza. E purtroppo è questa esperienza che mi tira giù con i piedi per terra e cercare di identificare quelli che sono i problemi, i motivi, le criticità che non funzionano. E quindi ha fatto di questa ricerca dei punti chiave la base di partenza della nostra attività. Detto questo, allora affrontiamo un problema. Il Presidente ha detto molto bene, dobbiamo imparare a vivere con l'incertezza. Imparare a convivere con l'incertezza, non subirla soltanto. E voi mi direte, ma l'incertezza c'è sempre stata. Sì e no, in questo momento il particolare grado di incertezza è veramente eccezionale. Perché? Perché l'incertezza entro la quale stiamo vivendo ha diverse dimensioni. Parlando soltanto di economia, noi stiamo vivendo una fase congenturale di grande incertezza e questo avviene normalmente quando si passa da una fase del ciclo, diciamo, di crescita, di espansione, hanno un'altra negativa, un'inversione. E questo di per sé, per definizione, crea incertezza. Perché le attese che erano orientate in un certo modo nella fase precedente, adesso si trovano spiazzate e non si cerca di capire quali sono i contorni di questo nuovo futuro. Questo tipo di incertezza, diciamo, endemica ma periodica, normale, si colloca in un contesto, in un quadro geopolitico o di sistema di enorme incertezza. Perché? È vero che anche a questo livello ci sono sempre state delle tensioni, motivi di cambiamento e di incertezza. ma forse mai negli ultimi 60 anni, come in questo momento, in cui quello che possiamo descrivere l'ordine economico internazionale, il sistema geopolitico creato dalla fine della seconda guerra mondiale, è sotto contestazioni e attacchi. Queste sollecitazioni sono sempre interessate. Ma tutto sommato erano sollecitazioni, per quanto importanti, diciamo parziali. Nel senso che andavano a identificare e possibilmente eliminare delle debolezze, dei difetti del sistema, senza necessariamente mettere in discussione tutto il sistema. Adesso invece siamo in una fase in cui almeno alcuni dei principali attori sulla scena internazionale, tra cui chiaramente la Cina, ma altri, non mandano, portano avanti soltanto l'esigenza di modificare questo sistema, ma pongono addirittura la questione se non sia il caso di costruire fuori da questo sistema un altro mondo parallelo, con caratteristiche diverse e con delle regole diverse. Poi magari andando avanti nella discussione metteremo un pochino più a fuoco questo. Comunque questo è il contesto. Noi stiamo vivendo in una situazione globale, economica e geopolitica che non abbiamo sperimentato del precedente, non con questa intensità e con questa sistematicità. Detto questo, poi in questo momento particolare, neanche storico, ma proprio di cronaca, c'è un altro notevole motivo di incertezza che è quello che potrebbero essere le prospettive della politica americana. Allora, sappiamo che entro un anno ci saranno le elezioni presidenziali. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono sempre di importanza, non solo per il Paese, ma perché il ruolo che nonostante tutto gli Stati Uniti hanno nella garanzia di questo sistema internazionale e non è un'esagerazione giornalistica. In questo momento assistiamo a delle convulsioni della politica americana, con degli sviluppi anche clamorosi, questioni di poche ore, e non è chiaro quelle che possono essere le soluzioni anche per risolvere queste questioni. Allora, in un'ottica, diciamo, di grande respiro, una possibile obiezione dice, ma sì, ma cosa importa? No, importa. Questa volta importa. Perché quello che sarà l'esito delle prossime elezioni negli Stati Uniti può inscenare due situazioni completamente diverse. Una vittoria democratica probabilmente cementa questo tentativo del Partito Democratico di trasformare la società e l'economia americana, abbandonando quelle che sono state le caratteristiche originarie dalla fondazione del Paese e trasformarla in qualche cosa che loro definiscono una socialdemocrazia europea, che è una cosa completamente diversa da quella che è stata ed è ancora il funzionamento. questo è l'obiettivo formale del Partito Democratico, eccetera. Una vittoria repubblicana invece bloccherebbe questo progetto, si ritornerebbe, quello che è stato fatto con questa amministrazione democratica, questo verrebbe cancellato quasi completamente, si ritornerebbe alle politiche dell'amministrazione precedente Trump e naturalmente con una serie di aggiunte in queste politiche. Quindi stiamo di fronte, cioè fra un anno avremo un'idea dove andranno negli Stati Uniti per i prossimi 10-20 anni e naturalmente dove andranno negli Stati Uniti hanno incidenza sul resto del mondo, avrà un'incidenza sull'Europa e poi naturalmente ovviamente anche nel nostro Paese. Questo è il contesto di incertezza generale. Quando e come viene messo in discussione un ordine mondiale che è praticamente durato dalla seconda guerra mondiale fino all'altro giorno? Allora, naturalmente in questa sede per quanto ci si può sforzare di essere precisi e di incidere molto l'analisi deve essere comunque per sommi capi, quindi scusatemi se rimango a delle descrizioni abbastanza generiche, però cerco di articolarle. L'ordine internazionale economico e geopolitico è sempre stato oggetto di revisioni di pressioni, è naturale. Queste modifiche o queste pressioni derivano dall'evoluzione della situazione, dai rapporti di forza geopolitici e dai rapporti di forza economici. Cioè, vi ricordo che questo sistema nasce alla fine della seconda guerra mondiale dove praticamente gli Stati Uniti potevano fare tutto, cioè erano le condizioni di fare tutto, di imporre l'ordine e di pagarne il costo perché il loro vantaggio in tutti i sensi, tecnologico, competitivo, stabilità politica, gli permetteva di essere ultra generosi e sarebbe veramente una grande ingratitudine non riconoscere in questa fase storica la grande generosità degli Stati Uniti. Che poi dopo che loro l'abbiano fatto anche per dei interessi, diciamo, interessi nazionali ragionevoli, non c'è dubbio, però avrebbero potuto prendere una direzione diversa. Come vi ricordo, con delle conseguenze catastrofiche, hanno fatto alla fine della prima guerra mondiale. E proprio il fallimento di quell'impostazione è stata uno degli elementi fondamentali che ha convinto gli americani, ok, siamo entrati in guerra, abbiamo vinto la guerra, non ripetiamo l'errore che abbiamo fatto perché le conseguenze sono state catastrofiche. E hanno creato, adesso io mi occupo soltanto dell'aspetto economico, ma ovviamente sappiamo tutti che ci sono anche altri aspetti, hanno creato quest'ordine. Il successo stesso di questo sistema economico ha modificato i rapporti di forza e il funzionamento del sistema, perché man mano che le economie europee si sono riprese, il Giappone è stato ricostruito, eccetera, il sistema ha dovuto trovare spazio per accomodare queste richieste e queste esigenze. Quindi questo è sempre stato. Poi ovviamente nel corso di decenni, figuratevi se non succedono delle crisi, degli shock esterni, il petrolio, la non convertibilità del dollaro, il collasso del sistema sovietico, l'emergenza della Cina, eccetera. Questi sono tutti, diciamo, shock di una certa rilevanza che richiedono una modifica al sistema, se no il sistema salta. E in realtà il sistema non è saltato ancora. Quindi questo tipo di sollecitazioni ci sono sempre state. Adesso però è la confluenza di due tipi di contestazioni che sollevano dei grossi perplessità sulla tenuta del sistema nel suo insieme. Perché? Oltre a queste sollecitazioni, diciamole, nazionali, cioè nuove economie che emergono e che chiedono un ruolo maggiore nella governance del sistema e nella stesura delle regole di come funziona. Questo ovviamente, questo per esempio, è la Cina che fa queste prese. Il sistema però viene contestato da diverso tempo anche all'interno. Perché? Anche all'interno dei paesi come gli Stati Uniti, che sono stati i principali architetti del sistema e i garanti del sistema, ci sono delle forti contestazioni. Perché? Perché uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi vent'anni è stata la globalizzazione. La globalizzazione che ha portato dei vantaggi economici e non solo economici impressionanti a tutti. Cioè, se uno dovesse fare un bilancio di che cosa è stata la globalizzazione negli ultimi vent'anni, i dati positivi sovrastano diverse ordine di grandezza gli aspetti negativi. Ma ha avuto anche degli aspetti negativi. Uno degli effetti della globalizzazione è stata la polarizzazione. Nel senso che i benefici e i costi della globalizzazione non si sono distribuiti in maniera uniforme. Sia in senso, diciamo, orizzontale. Cioè, alcuni paesi hanno beneficiato molto di più della globalizzazione di altri. Per esempio la Cina, ovvio. Ma anche la Germania. Altri molto di meno. Purtroppo l'Italia. Per una serie di motivi che adesso non voglio addentrarmi. Ma l'Italia è stato un classico esempio di paese che è stato fortemente penalizzato dalla globalizzazione. Lasciamo stare il problema di dire si poteva evitare, si poteva reagire in modo diverso, eccetera. Dato di fatto. L'Italia, cioè, la struttura dell'industria italiana è stata distrutta dalla globalizzazione. Non solo dalla globalizzazione. Ma la globalizzazione ha avuto anche questo effetto. Poi c'è stata una polarizzazione all'interno dei sistemi nazionali. Perché all'interno dei paesi sono stati alcuni gruppi socio-economici che hanno avuto enorme vantaggio dalla globalizzazione. Ed altri che sono stati massacrati. e questo ha creato delle forti tensioni per cui le persone che hanno beneficiato ovviamente sono a favore della globalizzazione. Le persone o i gruppi che sono stati fortemente penalizzati da qualche anno hanno detto no, non ci va più bene. E fra l'altro questa è una spiegazione perché l'avvento del populismo, in particolare negli Stati Uniti, l'ascesa altrimenti incomprensibile di un personaggio come Trump, eccetera, eccetera. Quindi questo è... Allora, un sistema che viene contemporaneamente attaccato dal di fuori a livello di Stato e di sistemi e ha queste forti contestazioni interne è ovvio che è un sistema che è soggetto a delle sollecitazioni di un ordine superiore del passato. E questo è un dato di fatto. La domanda che si pone è queste sollecitazioni saranno tali da far esplodere il sistema? Che comunque è chiaro che il sistema cioè il sistema all'ordine internazionale si sta disgregando in alcune componenti importanti ma non siamo ancora arrivati al punto di dire il sistema, questo sistema è finito bisogna passarne a un altro. Per esempio, uno dei principi basilari del vecchio ordine quello che è in vigore tuttora è stata la liberalizzazione del commercio internazionale che a livello globale ha avuto dei vantaggi enormi e viene da qualche tempo sempre più contestato restritto, eccetera, eccetera. Adesso state a vedere sino a che punto va avanti questo tipo di processo. Quindi c'è è in atto la disgregazione del vecchio sistema che può avere due soluzioni due scenari una una modifica anche importante ma del sistema grosso modo com'è controllato grosso modo dai paesi nazionali o dai sistemi nazionali che sono che quelli che l'hanno controllato sinora oppure invece senza necessariamente sparire però come vi accennavo prima la nascita di sistemi alternativi a livello magari regionali ovviamente controllato da altri diciamo la Cina, eccetera e quindi si entra si perde la unicità del sistema che è stata una delle caratteristiche di questo sistema la multilateralità del sistema poi chiaramente democrazia siamo tutti uguali però c'è qualcuno che è più uguale degli altri anche questo sistema certo abbastanza cerca di essere rappresentativo ma qualche volta rimane indietro una diciamo osservazione personale quando io sono arrivato al fondo monetario nel 2005 tanto per dirla la quota azionaria del fondo perché è un fondo del Belgio era superiore a quella della Cina e la quota azionaria determina anche il potere di voto cioè capite le cose assolte è vero che 25 anni fa il PIL della Cina era inferiore a quello dell'Italia sì ma 25 anni fa adesso chiaramente è un altro mondo a proposito di Cina e quindi anche diciamo queste tensioni crescenti tra l'Occidente in particolare gli Stati Uniti e la Cina comunque la crisi della Cina ha anche consentito di gestire in modo più morbido la crisi del 2008 2009 grazie alla crescita tumultuosa della Cina che ha trainato le esportazioni oggi anche a seguito di quello che è accaduto negli ultimi anni quindi una ridefinizione della catena di fornitura la Cina forse non in crisi economica però in affanno si nascondono le statistiche sull'occupazione giovanile la crescita è molto più modesta questo che che cosa comporterà all'interno di questa ridefinizione degli scenari globali allora mi piace l'eufemismo che ha usato il professore la Cina non è in affanno la Cina è in crisi per me altro che non è in affanno è in crisi perché perché ha praticamente esaurito quasi tutti i fattori che ne hanno permesso la crescita tumultuosa sinora mi spiego l'enorme successo economico della Cina degli ultimi decenni non è un fenomeno unico nella storia economica internazionale è unico nel senso che è la dimensione di quel paese che è unica ma l'esperienza le caratteristiche il percorso di sviluppo economico non è per niente unico anzi è quasi tradizionale l'hanno fatto tutti anche l'Italia ma anche il Giappone essenzialmente riducendo questa descrizione ai caratteri essenziali che cosa ha alimentato questo successo economico questo sviluppo economico della Cina molto semplice la trasferimento delle risorse da attività a bassa produttività essenzialmente attività agricole a attività a alto valore aggiunto che tipicamente è l'industria manufatteriera e questo in quasi tutti i paesi tutti i paesi dall'Inghilterra che è stata la prima nazione a industrializzarsi agli altri hanno fatto questo percorso è normale succede si arriva a un certo punto in cui questo processo di trasferimento delle risorse si esaurisce perché le persone che sono impegnate nell'agricoltura diventano sempre di meno oggi come oggi anche negli Stati Uniti che è nato come un paese agricolo prima di industrializzarsi la percentuale di persone che sono impegnate nell'agricoltura è il 3% quindi si esaurisce questo processo è inevitabile il modo per venirne fuori è non di arrestare questo processo o di impedirlo è di portarlo alle estreme conclusioni organizzando le attività nel settore tradizionale su delle basi di un'efficienza molto maggiore ed è quello che è successo con la cosiddetta rivoluzione verde no? adesso si dice la rivoluzione verde la gente pensa che è la rivoluzione ecologica prima della rivoluzione ecologica 40 anni fa c'è stata una rivoluzione verde nel senso che la produzione del settore agricolo è esplosa e fra l'altro è uno dei motivi che ha permesso all'umanità di non morire di fame perché altrimenti sarebbero rimaste imprigionati in queste famose teorie di maltus eccetera eccetera è stata un'esplosione di produttività nell'agricoltura però questo va benissimo quello che deve succedere è non solo di aumentare la produttività nel settore agricolo ma di utilizzare le risorse create nel settore agricolo per investire e costruire altre attività come per esempio l'industria e poi successivamente i servizi se uno non fa questo si blocca e purtroppo per molti aspetti è l'esperienza dell'Italia l'Italia che è uscita dalla seconda guerra mondiale che era un paese ancora prevalentemente agricolo è riuscita a fare il salto industriale veramente il miracolo nel giro di pochissimi anni a prezzi e sacrifici anche sociali enormi l'immigrazione interna italiana all'epoca su una popolazione di forse 40-45 milioni stiamo parlando di 10 milioni di immigrati italiani che si sono spostati dal sud al nord senza strutture senza niente è stata veramente una cosa eroica o tragica dal punto di vista poi però si è bloccato perché abbiamo fatto siamo riusciti a fare la transazione siamo riusciti a costruire un'economia industriale e non siamo più riusciti a fare il passaggio successivo quindi abbiamo siamo rimasti prigionieri di quel tipo di tecnologia di attività eccetera quando si è aperta con la globalizzazione la concorrenza di altri paesi vedi cinesi che erano in grado facilmente di sostituire quello che facevamo qui con i loro costi di produzione che sono erano una frazione quella parte lì è sparita nel giro di pochi anni e questo è stato il processo di industrializzazione della Cina adesso la Cina rimangono ancora circa 400 milioni di cinesi che sono impegnati nel settore agricolo e quelli rimarranno ancora lì non è chiaro però quale sarà la loro produzione perché adesso non voglio adentrarmi in un corso di agronomia ma le caratteristiche fisiche del terreno in Cina e le strutture di produzione agricola in Cina non sono buone è uno dei motivi per cui gli americani che hanno condizioni geologiche migliori e se volete vedere cos'è l'avanguardia della tecnologia anche informatica ma non dovete visitare una banca d'affari a New York dovete andare a vedere come viene gestita l'agricoltura nel Midwest degli Stati Uniti ma è una cosa pazzesca adesso non voglio divagare eccetera questa la Cina non è ancora riuscita a fare questo passaggio e probabilmente non ci riuscirà a farlo che è un grosso problema l'altro problema è che quando la Cina ha cominciato a accumulare risorse e le ha utilizzate per sviluppare l'industria c'è riuscita e ha continuato a farlo però perché anche per la tipologia del regime politico e sociale che avevano i dirigenti cinesi sono stati in grado di utilizzare queste risorse ai loro fini non lasciarli nelle tasche dei consumatori e una gran parte del tasso di crescita della Cina è stata per questo enorme tasso di investimenti pubblici cioè l'aumento allora la componente degli investimenti pubblici all'interno del PIL cinese è qualcosa come il 25 il 30% da un punto di vista statistico se lei se voi pompate risorse degli investimenti pubblici alla fine dell'anno vengono calcolati come PIL la domanda è servono questi investimenti pubblici e la risposta è in gran parte no nel senso che il tasso di redditività di questi investimenti è negativo vuol dire che le risorse che loro impiegano non creano le basi per la creazione di alta ricchezza creano un sistema che distrugge la ricchezza che è stata data come il PNRR adesso non li trascinate in un terreno in cui non voglio entrare questo processo qui sta raggiungendo e ha già raggiunto molti aspetti limiti perché noi siamo tutti impressionati dal fatto che la Cina ha una rete di treni ad altissima velocità hanno sviluppato l'aeroporti hanno sviluppato decine di milioni di abitazioni delle intere città che sono vuote non sono utilizzabili e probabilmente non verranno mai utilizzate cioè sono tutte infrastrutture che hanno contato per determinare il tasso di crescita del PIL al 10 il 12 il 15 per cento ma non è la base per la futura crescita anzi il contrario quindi la Cina non è più in condizioni adesso a differenza di 10 15 anni fa nel 2008 quando c'era la crisi di utilizzare le proprie risorse per continuare a spingere l'economia nazionale cinese e così facendo dare una boccata al resto del paese e soprattutto le altre economie asiatiche non è più in grado di farlo e infatti ne abbiamo la dimostrazione dopo la fine del covid che per loro non ha coinciso con la nostra perché hanno continuato con delle restrizioni ma quando finalmente sotto la pressione sociale hanno eliminato allora hanno avuto un balzo in avanti che si sta già esaurendo perché è un meccanismo che non funziona più cercano di mantenerlo ma i risultati sono sempre più modesti e diventa sempre più difficile sapete qual è il paese più indebitato al mondo so che la tentazione è dire l'Italia no non è vero la Cina ha un rapporto debito PIL doppio di quello dell'Italia doppio fa una differenza perché noi siamo indebitati con delle persone strane anche se sono nostri cugini europei eccetera loro sono indebitati con se stessi cioè in una famiglia la moglie va dal marito dice mi compri la borsetta dice no la borsetta non te la compro la moglie dice mi presti 100 euro sì 100 euro se poi non gli restituisce succede niente capito cioè un po' così quindi e poi potrei continuare altri eccetera una gran parte di quei meccanismi che hanno spinto la crescita economica della Cina nei decenni precedenti si stanno isolendo in aggiunta a questo il contesto internazionale sta diventando sempre più difficile perché 25 anni fa gli americani dall'alto della loro generosità oppure diciamo lungimiranza hanno detto sì va bene facciamo entrare la Cina nel sistema del commercio internazionale delle condizioni particolari eccetera ci va bene e a quel momento sembrava anche una sfida ragionevole perché cerchiamo di evitare che un miliardo e due tre di persone prendano una brutta strada cerchiamo anche perché i dirigenti cinesi uscendo dalla esperienza della rivoluzione culturale avevano detto a noi al di là della natura del regime ci interessa sviluppare l'economia e la ipotesi di base che col tempo col progressivo sviluppo economico la Cina si sarebbe sempre più avvicinata agli standard delle social delle democrazie liberali e questo è andato questo che non era cattiva fede questo è andato avanti per diversi decenni ultimamente con l'avvento del presidente attuale Xi lui ha cambiato radicalmente l'impostazione formale ufficiale del paese che non era più quella che vi descrivevo quando lui dice entro un lasso di tempo relativamente breve del 35 del 1035 noi vogliamo diventare non solo la prima economia mondiale e già è una cosa ma un paese egemone beh allora gli Stati Uniti a quel punto gli dicono no un momentino noi non siamo mica tanto d'accordo e quindi delle cose che vi abbiamo lasciato fare adesso non ve le lasciamo più fare che poi dopo alcune di queste reazioni sono state il advice non so le tariffe di Trump eccetera questi sono altri aspetti ma che la reazione fondamentale degli Stati Uniti indipendentemente se sei repubblicano se sei democratico è cambiata profondamente in maniera sempre meno accomodante per non usare espressioni più forti nei confronti della Cina è un dato di fatto e questa è una tendenza che non potrà che continuare nel futuro e questa è una dei fattori che incideranno in maniera significativa sulle prospettive di crescita dell'economia mondiale ma in particolare della Cina è uno dei fattori per cui le performance future della Cina per me sicuramente saranno ben lontane da quello che è stato passato loro sono scesi nel contesto di crescita double digit 12-15% poi erano scesi intorno al 10% poi adesso dicono che si acconterebbero del 5% in realtà sono ammesso che uno voglia credere quelle statistiche e sarebbe bene prenderla con molto molto scetticismo sono intorno al 2-3% cioè lo slogan che 20 anni fa finita la rivoluzione industriale la classe dirigente cinese era questo noi vogliamo diventare un pochino più ricchi prima di diventare molto più vecchi adesso sta succedendo che la Cina sta diventando molto più vecchia perché il degrado della demografia cinese è peggiore di quella giapponese e di quella italiana e tutto sommato non stanno diventando più ricchi ma che cosa sta dicendo se la Ferrari vende più Ferrari negli Stati Uniti in Cina che nei corsi sì ma perché sono un miliardo e 4 ci sono 400 milioni di classe media ci sono centinaia di miliardari ma se andate a vedere qual è il reddito pro capite del cinese è il 22% di quello americano no io non credo alla formazione di più blocchi nel senso che sì ci sono dei progetti ci sono degli imbroni ma ancora per tanto tempo il sistema mentre vedo possibile un cambiamento da un sistema universale come quello attuale con tutti gli accomodamenti all'interno ha come alternativa due sistemi più o meno paralleli ma non non completamente divisi perché comunque rimarranno delle delle diciamo delle intersecazioni fra i due sistemi come il concetto della separazione disengage la Cina non esiste è assurdo eccetera non vedo la creazione di molti blocchi e in particolare se vuole anche la mia esperienza personale mi spiace dirlo ma non è non sarà l'unica volta che mi sentirete fare questo tipo di valutazioni non credo nei BRIC non ci credo non credo nei BRIC non ci credo non ma non ma non perché non credo che i BRIC i BRIC sono questo gruppo di paesi che comprende formalmente nella descrizione comprende la Cina comprende anche il Brasile e vi faccio osservare che il Brasile è uno dei paesi che ha uno splendido avvenire 70 anni sono 70 anni che il Brasile ha uno splendido avvenire è ancora lì e se vogliamo fare una scommetta se non altri 70 anni fra 50 anni saranno ancora lì ma queste sono valutazioni dichiarate nel Brasile io non credo nel funzionamento dei BRIC come non non credo nel funzionamento dei G20 e allora i BRIC e i G20 sono strutture istituzioni che sono state create per per accomodare le esigenze di questi paesi perché la risposta della comunità internazionale è stata molteplici da una parte hanno detto sì diamo più spazio a questi paesi in particolare la Cina all'interno delle istituzioni che governano il sistema unico questa è stata una risposta un'altra risposta è dire oltre a queste diciamo istituzioni universali e vi ricordo tanto per inquadrare il concetto il fondo monetario poca gente se ne rende conto ma è un'agenzia specializzata dell'ONU che è l'organizzazione diciamo universale per eccellenza dopo la chiesa cattolica però l'obiettivo è quello lì capisce allora oltre a dare spazio a questi paesi emergenti la comunità internazionali ha detto ok noi non solo accettiamo ma favoriamo noi la creazione di istituti più piccoli più esclusivi dove noi stiamo dentro però il peso specifico di questi nuovi entranti è maggiore allora citare se stessi è una pessima abitudine ma in questo caso credo nel 2009 quando queste esigenze venivano fuori scrissi ed ero ancora al fondo e quindi dovevo stare attento a quello che dicevo scrissi un articolo per il Francial Time in cui diceva il G20 se vogliamo modificare l'architettura e le istituzioni per governare l'economia globale il G20 non è la strada giusta adesso non voglio fare facile polemiche ma che il G20 non è stata la strada giusta è evidente tant'è vero che negli ultimi anni il ruolo del G20 è stato praticamente zero ma potrei continuare i tentativi di sforzi di investimenti enormi che la Cina ha fatto in questi ultimi tempi per creare dei sistemi alternativi regionali sinora non hanno avuto risultati sperati e questo comprende la via della seta comprende la strategia di sviluppo in Africa eccetera eccetera non sappiamo il futuro io però sono pronto a scommettere che non è quello il futuro prima cosa diseguaglianza all'interno dei sistemi non nego che il problema è molto 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 serio perché un'eccessiva diseguaglianza tende a minare le basi l'equilibrio democratico all'interno dei paesi avanzati non c'è dubbio ed è un problema che deve essere affrontato non sappiamo ancora qual è la risposta giusta se sono le istanze portate avanti dai populismi se sono diciamo la reazione alle elite non sappiamo ancora quello che sappiamo che il problema c'è va affrontato ma vorrei fare un'altra avvertenza soprattutto quando si parla spesso di diseguaglianze e quasi tutti i paesi quasi tutti i paesi non solo quelli avanzati anche la Cina le diseguaglianze sono enormi perché se va a vedere la disparità il credito è enorme altro che gli Stati Uniti c'è una differenza però tra queste disparità di questa polarizzazione ci sono dei sistemi dei paesi in cui oltre ad avere questa polarizzazione di inuguaglianze c'è anche una enorme mobilità sociale questo è un fattore che nella conversazione sulle diseguaglianze soprattutto negli Stati Uniti viene dimenticato e allora cosa che invece questa enorme mobilità sociale di fatto di là diciamo dell'ichiarazione di principio non la ritroviamo in altri paesi come per esempio in Europa la mobilità la mobilità socio-economica degli Stati Uniti è impressionante voi fate una lista delle principali aziende degli Stati Uniti dieci probabilmente più della metà di queste aziende dieci anni fa non esistevano e la gente che è l'imprenditore che hanno creato e non sono soltanto imprenditori che hanno creato queste aziende non sono quelli che li hanno creati buon vecchio metodo che quelli hanno irritato da papà ma non c'era proprio non esisteva cioè questo è un fenomeno e questo fra l'altro non voglio dire che questo fenomeno annulla l'altro ma va preso in considerazione e negli Stati Uniti questi due fenomeni vanno molto bene perché fa parte della mentalità cioè dello spirito del paese in cui non era l'obiettivo non era quella l'uguaglianza del risultato no l'obiettivo è quella l'opportunità devono essere uguali poi dopo accettiamo che ci siano delle performance diverse quindi diciamo per rispondere tecnologia ne rimango fuori perché non ho la competenza bene iniziamo la seconda parte parliamo di economia allora il macro tema è quali sono le prospettive dell'economia globale però in queste risposte sarebbe bello legare idealmente anche se mi rendo conto che si verrebbe forse una settimana tra una volta in un incontro se mi ricordo eravamo a Levico il dottor Sadum disse nel 2008 siamo arrivati vicino all'apocalisse nucleare dal punto di vista del sistema capitalistico ecco come siamo arrivati a una fase di quasi gelo totale sull'economia a una fase dove a seguito dell'inflazione l'economia andrebbe addirittura rallentata fermata allora la crisi del 2008 ovviamente stiamo parlando della crisi finanziaria del 2008 è stata una crisi finanziaria gravissima gravissima lo posso dire con conoscenza e non avevo bisogno di leggere i dati i bollettini statistici per rendermene conto mi scusi mi bastava guardare in faccia i ministri o i responsabili dell'economia che in pellegrinaggio venivano a Washington e al fondo monetario per capire la gravità della crisi allora se mi permettete un aneddito personale la crisi scoppia la crisi è una crisi bancaria finanziaria scoppia gli americani fanno una serie di errori in nome dell'ideologia del mercato prima salvano una banca e quindi cercano di arginare la crisi poi la seconda volta ci ripensano e non la salvano più un'altra banca dicendo fa parte delle regole del gioco ma quale regole del gioco se salta tutto una volta però che l'hanno fatta saltare la banca si sono accorti per dei motivi particolari che si erano creati che stava venendo giù tutto il sistema gli americani parlo degli americani non perché sia fissata con gli americani ma perché è ancora come dicevo il centro villaggio globale eccetera alla fine dell'amministrazione Bush che già era in partenza ammesso che non fosse già partito da qualche anno con la testa cercano di porre rimedio propongono al congresso un piano di intervento per stabilizzare di 800 miliardi che sembrano grandissime cifre ma in realtà ormai sono bazzeccoli cosa succede il congresso americano dall'alto della sua saggezza lo boccia e allora a quel punto lì veramente si rischia di perdere il controllo della crisi perché se gli americani non intervengono e sono gli unici che possono farlo e lasciamo il sistema cosa succede il sistema salta mi ricordo viene fatto viene convocato una riunione di emergenza non dei G20 dei G7 a Washington venerdì in preparazione di questo incontro collettivo alla mattina c'è una serie di incontri bilaterali fra i vari ministri non G20 con un'eccezione G7 anzi G8 poi vi spiego perché il ministro delle finanze inglese che doveva incontrare il nostro ministro delle finanze che all'epoca era il Tremonti l'incontro era il mio ufficio lui entra nella mia stanza distrutto non so se ve lo ricordate fisicamente aveva tutti i capelli bianchi anche se aveva 40 anni e quei pochi capelli che non erano sopravvissuti sicuramente erano diventati bianchi nel giro delle ultime due settimane si disfatto distrutto si getta sul divano e dice testuali parole al suo collega italiano sentite ragazzi i ragazzi eravamo noi boys se voi non fate qualcosa noi lunedì quando riaprono i mercati noi come nazione come sistema finanziario inglese internazionale non sappiamo se reggiamo ok questa diciamo la situazione in qualche modo il sistema viene salvato perché i boys compresi gli Stati Uniti reagiscono e nel corso nel giro di quel weekend venerdì si trovano a Washington ritornano precipitosamente in Europa Sarkozy che era presidente francese era anche presidente dell'Unione Europea convoca una regione di emergenza a Parigi domenica io nonostante il fuso orario rimango a Washington aspettando notizie finalmente alle due del mattino mi chiama il ministro e gli dico come è andata e mi risponde non lo so come non lo sai avete trovato un accordo credo di sì ma non lo so sta tornando a casa non lo so ma cavolo se non lo sai tu perché in quelle situazioni c'è confusione aspetto che si apre la prima borsa che era la borsa di Sydney e vedo che il mercato ha ripreso e ho detto ok l'hanno salvata e hanno salvato la situazione o nel giro di poche settimane non solo la crisi finanziaria è stata arrestata finita poi si è tramutata da crisi finanziaria a crisi economica che è un altro discorso perché vi racconto tutto questo perché anche in una situazione di estrema criticità alla fine in estremis si sono trovate le risorse per salvare il sistema e quindi questo magari non è un atteggiamento molto razionale però personalmente mi dà una forte convinzione che qualora dovessimo trovarci di fronte a una situazione veramente di collasso una soluzione la troviamo che non significa che non ci siano dei cadaveri dei morti per strada metaforicamente no ma una transizione si trova io non credo al collasso del sistema internazionale credo invece alle forti tensioni a cui questo sistema è sottoposto attuale questo sì ma non credo che siamo siamo di fronte a un collasso siamo di fronte a una situazione diversa dove il sistema sta perdendo pezzi e colpi e vanno bisogna portare rimedio a quello penso che alla fine la soluzione la troviamo non sarà una soluzione che farà piacere a tutti ma la troviamo e quindi secondo me la questione è semplicemente questa la soluzione che troveremo sarà una situazione ancora grosso modo unitaria che convolga tutto oppure come vi dicevo prima andiamo incontro a due sistemi io credo non è la prima soluzione credo che stiamo andando incontro non alla fragmentizzazione del sistema in diversi blocchi non esiste in natura cioè voglio dire l'economia mondiale indipendentemente dalla natura dei regimi è talmente integrata che anche volendo non è possibile è possibile far saltare tutto ma non è possibile far funzionare il sistema separando queste componenti ormai siamo arrivati a un punto tale non è più possibile farlo capito quindi andremo incontro a questo tipo di adattamento questo sono abbastanza ecco ripeto entro questo quadro dobbiamo fare i conti con la congiuntura italiana la congiuntura internazionale e la congiuntura italiana quali sono i prospettivi di queste congiunture internazionali prima non molto brillanti mi spiace dirvelo poi non dite che perché sono io e sono pessimista perché sono realista perché quando appena qualche mese fa un anno un anno fa uscendo dal covid c'eravamo tutti illusi che adesso si apriva una nuova fase di crescita accelerata finalmente al quale avrebbe potuto partecipare anche l'Italia ma non esiste adesso non voglio usare un'espressione troppo cruda ma negli Stati Uniti tra gli addetti ai lavori si dice che anche un gatto morto che cade dal quarto piano rimbalza ma sempre morto è perché perché se non si attaccano i problemi fondamentali il rimbalzo rimane un rimbalzo tecnico e come è avvenuto in Europa e in particolare l'Italia rimbalzo ma lo sappiamo tutti si sono allentati o ignorati tutti i vincoli fiscali eccetera e quindi le risorse che sono state trovate in questo modo qui sono state utilizzate per sostenere la domanda bella forza quanto dura non per tanto quali sono i costi l'inflazione ecco questa è la realtà quindi qual è la situazione poi adesso fra qualche giorno ne avrete la certificazione perché stanno venendo fuori gli ultimi rapporti del Fondo Monetario della Banca Mondiale proprio a giorni eccetera che vi confermeranno che lo stato di salute dell'economia mondiale non dei paesi avanzati non è buono perché noi abbiamo l'Europa che è sull'orlo della recessione con all'interno dell'Unione Europea o dell'Europa due paesi Germania e Inghilterra che non sono economie da poco che sono già in recessione prima abbiamo la Cina che voi dite ma è troppo presto per dirlo sì e no secondo me la mia valutazione è il tentativo della Cina di rilanciare l'economia e di raggiungere quegli obiettivi anche modesti storicamente ma sostanziosi 5-6% è già fallito ci riproveranno di nuovo a dei costi sempre maggiori con dei risultati sempre minori e quindi secondo me sarebbe estremamente imprudente aspettarsi che la Cina possa ritornare a tassi di sviluppo 5-6% e soprattutto sarebbe estremamente irrealistico aspettare che la Cina in questa fase possa avere il ruolo trainante che invece aveva giocato uscendo dalla crisi del 2008-2009 rimangono gli Stati Uniti dove c'è una situazione assurda da tutti i punti di vista paradossale non solo politica ma anche economica perché dall'inizio dell'anno l'economia americana ha conosciuto dei tassi di crescita superiori a quelli della Cina tanto per dirlo questo trimestre il terzo trimestre le stime della crescita del PIB negli Stati Uniti sono superiori al 5% cosa sta succedendo sta succedendo quello che è successo in altri paesi solo che negli Stati Uniti le dimensioni sono più grandi le risorse fiscali che sono state utilizzate sono state enormi e sta succedendo quello che non poteva non succedere cioè noi in Europa abbiamo affrontato lo shock del del Covid investendo qualcosa come adesso non so tutto sommato stiamo parlando di 2 trilioni di dollari o di euro o di cose del genere gli Stati Uniti per il paese ne hanno investiti tre volte tanto e soprattutto dall'avvento di questa amministrazione quando il Covid era già finito gli Stati Uniti già stavano recuperando rimbalzo tecnico hanno continuato a pompare altri 3 trilioni di dollari ma è chiaro che se un sistema non muore sotto il peso di queste lecitazioni non può che se poi aggiungete che quello che è successo durante il Covid dappertutto ma soprattutto negli Stati Uniti c'è stato un forte accumulo di risparmio forzato non poteva neanche uscire di casa dove li spendi più i trasferimenti fiscali assurdi cioè 70% della gente che non poteva lavorare durante il Covid ha ricevuto cash dal governo americano più di quanto guadagnavano prima senza avere i costi di andare a lavorare trasporti cosa è successo esploso tutto adesso i risparmi si stanno esaurendo noi per esempio abbiamo calcolato di queste centinaia di miliardi nelle tasche del consumatore americano oggi come oggi sono rimasti circa 200-300 miliardi e a fine anno sono finiti ci sono più che non vuol dire che il consumatore americano non cercherà di continuare a consumare e a spendere sì ma prendendo i soldi in prestito ma prendendo i soldi in prestito in queste condizioni in cui sulle carte di credito voi pagate dell'interesse 18% quanto dura e se dura si creano le condizioni che poi hanno portato la crisi del subprime del 2008 quindi è una cosa pazzesca quindi queste sono prospettive quanto dura questa apparente buono andamento dell'economia americana poco secondo me poco cioè questo discorso recessione sì recessione no secondo me la recessione sì anche se si parla recessione non tutte le recessioni sono uguali in questo per esempio non tutte hanno una intensità di severità uguale e soprattutto in questa quando manda il volo esiste la recessione controllata? no no non esiste in natura non esiste la recessione controllata che si chiama in gergo soft lending non esiste non esiste cioè non esiste non è mai esistita tutti dicono sì esiste lo facciamo tutte le banche centrali dicono vogliamo raffreddare l'economia ma non entrare in recessione ma non esiste come tutte le banche centrali a cominciare a quella americana dicono controlliamo l'inflazione con la stretta monetaria ma evitiamo la recessione ma non è vero negli Stati Uniti perché parlo degli Stati Uniti perché negli Stati Uniti oltre alla rilevanza di quella economia i meccanismi di mercato sono più chiari perché sono meno diciamo inquinati o offuscati da incrostazioni ideologiche e roba di questo genere si vede anche se non è proprio un funzionamento automatico però si vede ci sono i regimi c'è le regole del mercato francamente funzionano abbastanza bene o almeno in modo evidente l'unico modo in cui gli Stati Uniti riescono a controllare l'inflazione e loro hanno avuto una serie di inflazioni anche molto severa è di spingere l'economia in recessione ma non lo ammetteranno mai non l'hanno mai ammesso portando avanti il discorso soft landing ma non esiste soft landing se lei ha l'appendicite o toglie l'appendicite o se no soft appendicite non esiste dicevo questa recessione fra l'altro è un'eccezione diversa da quelle precedenti perché la natura il cambiamento tecnologico e socio-economico del paese fa sì che non necessariamente tutti i comparti dell'economia devono andare in recessione e quello che per esempio quando mi dicono ma gli Stati Uniti andranno in recessione la mia risposta è ma è già in recessione nel senso che alcuni comparti molto importanti sono già in recessione il comparto delle costruzioni è in recessione il comparto degli investimenti è in recessione il comparto delle autovetture è in recessione poi ci sono altri comparti che sono importanti per esempio i servizi che con i servizi l'ospitalità e non solo dei boom tanto per dirla il mercato funziona i prezzi dei biglietti aerei sono più che raddoppiati dalla fine del covid non dico i prezzi degli alberghi a Milano che conoscete meglio di me è una cosa assolta quindi ci sono queste disfunzioni comunque il quadro è questo stiamo andando incontro a una come minimo slowdown molto significativo generalizzato neanche la Cina si salva da questo slowdown che è una situazione obiettivamente molto diversa dalle esperienze si non ha fatte una delle affermazioni che si sentono spesso è che questi tassi di interesse elevati sono colpa della banca centrale europea in realtà secondo me la banca centrale europea segue quello che accade sul mercato però magari sbaglio cioè l'inaspiramento dei tassi l'inaspiramento dei tassi è necessario cioè la banca centrale allora le banche centrali importanti la Fed dei Stati Uniti la banca centrale europea la banca d'Inghilterra che sono le banche importanti hanno due strumenti per controllare l'inflazione e fra l'altro un'osservazione diciamo istituzionale la banca centrale europea ha un mandato solo che è quello del controllo dei prezzi a differenza dalla Fed che ha un doppio mandato incompatibile ma tant'è il controllo dei prezzi è la piena occupazione assurdità però sono miracoli della politica eccetera cioè se l'inflazione degli Stati Uniti che è scesa sensibilmente rimane intorno al 4-5% non va bene perché non va bene perché il sistema economico degli Stati Uniti non è compatibile con un tasso di inflazione di questi livelli non funziona per esempio oggi come oggi i tassi sui mutui mortgage sono intorno al 7% il mercato è fermo ed è un comparto molto importante per l'economia americana ed è fermo perché perché è fermo perché non è questione di convenienza il consumatore dice no io non voglio pagare 7% non vuole pagare perché non lo può pagare non ha le risorse all'interno del bilancio familiare per pagare dei tassi dei mutui al 7% quindi o si cambia il sistema oppure bisogna che si rientri in parametri compatibili con il sistema ma questa è la stessa cosa che si può fare per altre considerazioni per esempio gli investimenti sono investimenti importanti fondamentali che hanno uno spazio temporale di decenni e funzionano se c'è un tasso di interesse a un certo livello se questo tasso di interesse è il doppio o il triplo di quello originariamente previsto ma non funzionano più quindi per questo il controllo dell'inflazione è essenziale a meno di cambiare il sistema domanda immediatamente successiva dice si riesce a riportare l'inflazione al 2% mia risposta altrettanto secca no sicuramente no nel corso di due anni e probabilmente non ci riusciremo più nel senso il 2% era un obiettivo ed è ancora l'obiettivo ma in realtà l'inflazione prima del covid era inferiore al 2% questo non si credo che non si ripeta più perché quel 2% era frutto di circostanze eccezionali che anche volendo non si possono ripetere perché inondare il sistema economico reale e finanziario con questa enorme massa di liquidità non è più gestibile veramente salta tutto cioè quando i valori monetari sono un multiplo del valore cioè dell'ammontare della ricchezza del PIL reale al di fuori di qualunque di qualunque proporzione i rischi che a un certo punto basta uno shock esterno e salta tutto sono quasi inevitabili quindi queste diciamo sono le prospettive le prospettive sono per il medio e il breve un contesto internazionale molto difficile molto più modesto di quello a cui potevamo sperare a cui eravamo abituati primo un rapido ritorno dell'inflazione ai livelli pre non è realistico una riduzione dei tassi di interesse rapida rapida ai livelli che troviamo non è nelle carte non è nelle mie carte poi magari posso anche sbagliare ecco quindi è un contesto oh c'è un altro fattore questo vale in Europa e in Italia molto di più che negli Stati Uniti ma comincia a avere un impatto anche negli Stati Uniti questa sospensione delle restrizioni fiscali di cui abbiamo beneficiato negli ultimi due o tre anni è finita l'Europa ci ha già detto basta la ricreazione adesso è finita adesso modifichi eccetera ma dobbiamo ritornare a un brisciolo di a un brisciolo di contenimento magari non si ritornano le follie dell'austerity della Merkel eccetera ma che ci lasciano fare dei defici del 4 il 5% con queste condizioni non è realistico quindi questi sono soltanto alcuni dei fattori quello che si chiamano i venti contrari sono tantissimi senza pensare poi alle incertezze diciamo militari la situazione in Ucraina la ribellione sì o no degli altri paesi ma ce n'è abbastanza sul piatto ma comunque io sono ottimista nel senso che nonostante tutto perché sono ottimista non perché perché sono cieco di fronte a queste sfide ma perché alla fine non so poi neanche se volete posso cercare di spiegare ma penso che alla fine troviamo un modo per gestirlo alla fine ma l'abbiamo fatto anche noi cioè quante volte l'Italia come paese si è trovato sull'oro del collasso e poi dopo all'ultimo minuto zac siamo tornati indietro cioè qualche volta torniamo indietro troppo tardi quando siamo già caduti ma io credo che a un certo punto la soluzione la troviamo e poi comunque io ho la ricetta se la vogliono e nel frattempo il debito Italia che fine farà il debito in Italia non sparisce è chiaro non si riduce e per avere dei risultati marginali stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 punti sul PIL a dei livelli siamo quanto siamo 150% 140% sono dei sacrifici no ma non è quello la strategia giusta cioè la situazione del debito pubblico italiano si gestisce in modo solo e non è con Draghi la Merkel qualunque ingegneria finanziaria qualunque patto sociale eccetera ci vuole la crescita se noi non torniamo a dei tassi di crescita come minimo reale superiore al 2 che è sommato all'inflazione vuol dire un tasso nominale del PIL di 4-5% il problema del debito italiano non si risolve al massimo si gestisce ma vorrei che voi imprenditori politici eccetera rendessero conto che gestire questa situazione ha un costo altissimo gestire questa situazione vuol dire condannare il paese altri 20 anni di stasi lì poi veramente comincio a essere pessimista io non so dove va a finire questo paese se abbiamo altri 20 anni di stasi sicuramente va a finire il Medio Oriente o nel Nord Africa ma diventa sempre più difficile rimanere agganciato all'Europa che va bene può anche andare bene la nostra vocazione abbiamo il sole facciamo il turismo eccetera ma è un'altra cosa poi andate a spiegare ai vostri figli che devono andare alle scuole alberghiere perché quello è il loro futuro ma la reazione è riconoscere ma io vado a Londra tanto vedo poi dopo magari ritorno quando ho fatto i soldi lì apro un'azienda agricola agroturismo in Italia ma non è quella la soluzione la Brexit è un esempio di i limiti del mio ottimismo non sempre si riesce riusciamo a evitare il disastro la Brexit è stata in inglese si dice unmitigated disaster unmitigated disaster unmitigated un disastro per accidente cioè spesso succedono questi disastri non voluti permesso dal governo attuale signor Osborne che ha concesso il referendum nella convinzione di vincere facilmente non è la prima volta che dei statisti fanno questo tipo di miscalcolation credo che il signor Putin abbia fatto anche lui qualche miscalcolation però qualche volta questi errori strategici succedono è stato un disastro le premesse non si le premesse che molti non le hanno mai accettate ma i fautori della Brexit pensavano la Fage eccetera che un sistema come quello inglese liberato da tutti i lacci lacciuoli condizionamenti di Bruxelles avrebbe trovato dell'opportunità di sviluppo superiore fuori follia perché non che in principio non è possibile ma non funziona non funziona quando il grosso dei tuoi rapporti sono ancora con l'Europa e comunque non hai più la forza che avevi una volta forse non tutti in Inghilterra hanno capito ma l'Inghilterra non ha più l'impero cioè non ha più tante altre cose che una volta gli poteva permettere di fare questo quindi è stato un mitigato disastro in questa valutazione leggermente negativa della Brexit in realtà quello che mi domando è quanto peggio le cose possono diventare e purtroppo la risposta potrebbe diventare molto molto peggio ma non solo per le performance economiche perché come conseguenza di queste difficoltà sempre più ovvie fallimento di queste politiche si potrebbero innescare delle reazioni per cui l'Inghilterra oppure come ufficialmente viene descritto United Kingdom non è più United appare il fatto che non è più un Kingdom ma non è più United perché voi sapete che ci sono delle fortissime pressioni della Scozia che è arrivata anche lei molto vicino a dichiarare l'indipendenza e se la Scozia si separa lo vuole fare anche il Galles quindi tutto questo l'origine potrebbe cioè se succede tutto questo viene dalla Brexit quindi non è quella la strada adesso non so non voglio urtare le aspirazioni di autonomia locale stiamo molto attenti però a queste cose perché io sono molto favorevole alla flessibilità perché altrimenti uno soffoca il sistema diventa troppo rigido e dà delle indicazioni che non vanno bene per tutti però dobbiamo anche essere coscienti cioè l'Italia senza l'Europa non va da nessuna parte peggio l'Italia senza Europa va male va a finire male e abbiamo degli esempi molto concreti vi dicevo prima l'Argentina l'Argentina sono 70 anni che va male e non ne vengono fuori quindi Brexit è quella che è potrebbe essere molto peggio sinché dura la sfrutti e non si affretti a dire a suo figlio di tornare se lo vuole vedere lo valla a trovare a Londra ma certo no ma certo ma siamo tutti io sono andato via dall'Italia a 18 anni siamo tutti affetti da questo non è neanche nostalgia deve essere un po' come gli uccelli viaggiatori cioè è costruito questo bisogno di ritornare a vedere poi devo dire che uno deve tornare qualcosa per dire fatto bene andare fuori questo è un altro discorso prima di diventare economista mi piaceva molto mi piace ancora relazioni internazionali avevo cominciato a fare la carriera diplomatica eccetera eccetera tanto per darvi inquadrarvi gli errori giovanili commessi poi continuate a fare errori ma non più giovanili la mia tesi era sul processo di decolonizzazione dell'Africa erano gli anni 60 in cui questo processo del cosmo e lì prima sulla carta ho imparato diverse cose poi ho fatto un'esperienza sul campo e ho imparato altre più cose e non è un caso che da allora non sono mai voluto tornare in Africa va bene così io non ci credo nell'Africa mi spiace cioè non ci credo nell'Africa non credo che l'Africa è il futuro sì forse fra 200 anni se saremo ancora su questo pianeta la cosa che mi preoccupa è che anche quei pochi esempi di successo relativo dell'Africa sono realtà che si stanno disgregando perché il Sud Africa che con la fine dell'apartheid era al soglie di una diciamo normalizzazione sociale politica con innestata in un contesto di robusta crescita economica ecco quella realtà si sta disgregando e adesso non voglio entrare nei dettagli comunque una risposta parziale no io non credo che la salvezza venga all'Africa come esempio vi porto questo ma voglio inferire io non credo che la strategia cinese in Africa stia avendo successo secondo me è destinata a fallire a fallire perché le basi sono sbagliate cioè questa strategia di dare i soldi per costruire le infrastrutture ai paesi africani non sta in piedi intanto perché i cinesi hanno la strana idea che una volta che hanno dato questi prestiti li vogliono i soldi indietro che è un'assurdità noi cilindali non ci sogneremo mai tant'è vero che periodicamente c'è questa cancellazione del debito beh sono anche in Montenegro adesso certo sì ma noi siamo abbiamo la sensibilità e siamo i cinesi è un'altra cosa i cinesi vogliono i soldi indietro molti di questi progetti non generano risorse non solo i progetti ma lo stato generale della fiscalità di questi paesi è tale per cui anche volendo e non vogliono e non hanno mai voluto i soldi indietro non ce li hanno oppure se li fanno dare da più occidentali per ripagare i cinesi e una volta poteva anche funzionare ma non funziona più adesso perché adesso che si è rotta questa diciamo mistica questa aspettativa che dobbiamo aiutare i cinesi a entrare nella comunità internazionale e quando loro hanno detto sì noi entriamo molto volentieri però vi facciamo le scarpe no allora voi andate a proporre agli americani che sono ancora gli azionisti principali del fondo monetario e della banca mondiale che loro devono usare i soldi dei contribuenti in modo che i cinesi li trovano ma altro che disordine del 6 ottobre c'è gente che scende americani che scendono per stare quindi quella strategia non funziona anche perché adesso voglio essere veramente infierire ma mi ha provocato lei quel tipo di strategia è basata sull'investimento pubblico ma non funziona neanche in Cina ma come poter pensare che funzioni negli altri paesi cioè non è non è quella gli strumenti la strategia l'approccio appesso che ci sia e adesso non voglio diventare sono un po' stanco un po' annebbiato non voglio diventare diciamo troppo non salante eccetera i paesi africani hanno non è che siano condannati a non crescere hanno delle loro chance volendo potrebbero leapfrog tecnologie per esempio la mancanza di una rete telefonica fissa loro l'hanno risolta col cellulare per carità va benissimo così ma non basta quello non basta quello non la vedo bene spazio per un'ultimissima domanda dopo io ho una curiosità ma la Russia ha finito questo la Russia non l'ha ancora capita la Russia è finita come grande allora io ho qualche certezza molto diciamo sintetica e le certezze che io ho in questo momento è che gli altri i diretti interessati ancora non hanno capito la Russia ancora non ha capito che le aspirazioni di Putin di ricreare l'impero russo è finito indipendentemente da come va a finire la guerra in Ucraina perché gli effetti già assodati e probabilmente irreversibili di quella mossa è stata quella di far entrare Finlandia Svezia della Nato che è un'altra cosa a quel punto lì la Nato diventa un'altra cosa è diventata sta diventando un'altra cosa quindi il sogno egemonico egemonico nel senso di ricostruzione dell'impero russo non sovietico non è finita ma c'è un'altra diciamo curiosità geopolitica storica se volete non è stata sollevata ma la sollevo io eccetera in questa sfida che la Cina ha lanciato agli Stati Uniti loro probabilmente non hanno ancora capito ma l'hanno già persa cioè io sono convinto loro hanno già perso non l'hanno ancora capito ci metteranno un po' di tempo dovranno sentire qualche consulente adesso qui parlo pro bono che gli spieghi perché ma loro la sfida con gli Stati Uniti l'hanno già persa e l'hanno già persa perché l'hanno lanciata prematuralmente l'hanno lanciata prematuralmente in un momento in cui loro pensavano di essere su un trend che sarebbe continuata e invece il trend si stava già sceso e stava già e a questo proposito a me fa molto piacere sono diciamo curiosità storiche un aneddoto tanti anni fa quando il Giappone attaccò gli Stati Uniti voi veramente sapete che l'architetto della strategia dell'aggressione giapponese agli Stati Uniti era questo famoso ammirallo Yamamoto che non era affatto uno sprovveduto era a parte che aveva delle qualità personali eccezionali poi era stato addetto navale a Washington e aveva avuto modo di conoscere molto bene la realtà economica e industriale del paese nonostante tutto dopo aver fallito a convincere il resto dell'establishment militare all'avventura imperialista ha detto va bene se lo dobbiamo fare facciamolo però in modo diciamo assennato eccetera va bene Giappone sfera l'attacco per l'arbur Yamamoto sta aspettando il risultato dell'attacco arriva un suo assistente tutto esagitato banzai banzai grande vittoria cosa è successo abbiamo colto la flotta americana di sorpresa l'abbiamo distrutta Yamamoto dice quante porterie avete affondato e lui dice ah le porterie non c'erano infatti non c'erano erano fuori erano in missione fuori sa come ha risposto Yamamoto abbiamo perso la guerra non affondando le porte aeree americane che erano la chiave di vittoria nel pacifico e non avendo il Giappone la possibilità di costruire porta aerei in grado di controbilanciare quelle americane lui aveva capito che aveva già perso la guerra e così è stato come e milioni di morti e milioni di morti compreso lui perché lui stesso poi dopo è stato ucciso quindi ci sono due realtà il signor Putin anche se vince in Ucraina ha già perso in Europa sì ancora non ha capito la sfida con gli Stati Uniti l'ha già persa e adesso non vi spiego perché l'ha già persa casomai facciamo la prossima puntata vengo preparato va bene allora penso che sia stato interessante i toni sono stati sicuramente vividi però a un certo punto è anche interessante dire le cose come stanno quindi in Italia si stende sempre ad edulcorare a trovare il capo ispiatorio fuori quindi la situazione è sicuramente complessa però in qualche modo pare che potremo sopravvivere non abbiamo ancora la data per il prossimo incontro la stiamo definendo però sicuramente con il nuovo anno quindi in inverno ci saranno altri incontri il filone sarà questo però chiaramente verranno declinati su temi specifici diversi io ringrazio ancora Trentino Sviluppo e la Cassa di Trento per la splendida collaborazione e l'ottimo clima che si è creato ringrazio voi vi auguro buona serata e vi do appuntamento al prossimo incontro grazie grazie a tutti